Benvenuti agli 80k! Scherzi a parte, ci siamo! Il target che ci eravamo prefissati, quello degli 80k, è stato finalmente raggiunto, superato. Ricordo per chi mi segue da un po' sul canale, si ricorderà, scorrendo un pochino nel passato, eccoci qua. Avevo detto un mese fa esattamente, ma in realtà è dall'anno scorso che chiamo gli 80k, avevo dato questo disegnino qua, questo schema qua, dove vado a dire sostanzialmente eravamo allora a quota, andiamo a ingrandire così cerchiamo di capire a che diamine di quota eravamo, 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 eravamo in area 65 più o meno k. Come dicevo, questa era l'area di rigetto da abbattere, resistenza, la famosa resistenza dei 68-70k, rotta quest'area, ci sarebbe poi potenzialmente stato un pump, effettivamente c'è stata la rottura, Poi siamo saliti, tac, e ora ci troviamo nel nostro target e qui si entra nel vivo, nel vivo un po' dei movimenti degli ultimi mesi di bitcoin. In realtà è qui che tutti sognavamo di vedere bitcoin, sognavamo di vederlo tutti a 100k, però questa era l'area che da un po' ci aspettavamo di vedere. Bitcoin che è stato dormiente fino adesso e ora ci sta regalando dei bei momenti. Abbiamo raggiunto, abbiamo detto, gli 80k, ricordo la mia area, il mio target andava tra gli 80 e i 90k, non mi aspetto ora per la fine dell'anno i 100k, mi aspetto di rimanere all'interno di quest'area per tutta una serie di motivi. Ovviamente non ho la sfera di cristallo, nessuno ha la sfera di cristallo, perché mi aspetto che rimarremo all'interno di quest'area, perché ancora l'economia è incerta comunque, dobbiamo capire il prossimo anno che cosa succederà potenzialmente, quindi se si entrerà o meno in recessione, nel caso in cui non si entrasse in recessione e si riuscisse, come al solito, a scamparla, ok, allora è possibile andare a colpire aree maggiori. Viceversa, mi aspetterei uno scarico, quindi da questo livello magari uno scarico tornare sui 70k, sicuramente, ma potenzialmente anche ritornare nella nostra area di accumulo, quella che andava tra i 50 e i 60k, quindi andare magari a rimbalzare su quest'area, sui 60, 65, 55k, prima di andare poi a riposizionarsi per il prossimo ciclo. E vediamo però che cosa ne pensate voi, quale pensate che possa essere un target fattibile. Ho fatto ieri sera un sondaggio e vediamo un po' le risposte, vi invito a rispondere ai sondaggi, perché è un modo divertente innanzitutto per analizzare il mercato insieme e capire un pochino che cosa ci si aspetta. Allora, prossimo target, un 42% dei votanti ha detto 100k, quindi molto combattuto tra il 90 e i 100k. Poi c'è un 6% che è infomo, infomissima ai 150k e poi un 8% che non vede l'ora che torna ai 60k per ricomprare. Ora, questo sondaggio è abbastanza in realtà attendibile, perché andando ad analizzare e confrontarlo con i dati più generali di quella che è la situazione, effettivamente ci viene come target i 90 e i 100k abbastanza distribuito. Poi c'è sempre una, tra virgolette, minoranza che ti spara prezzi 150, 200, 300k e poi una parte invece che sta aspettando ancora di poter infilarsi sul mercato ad un prezzo più basso. Questa è la situazione. Andiamo a questo punto a vedere graficamente che cosa sta succedendo. Questa volta guarderemo il grafico da Nexo, perché secondo me è molto semplice per alcuni fattori che ti mostro tra pochissimo. Tra l'altro, se ancora non ti sei registrato Nexo, qua sotto ti lascio il link. Che cos'è Nexo? È un exchange che permette di ottenere interessi sulle proprie crypto, ma ti permette anche di ottenere prestiti a fronte delle tue crypto. Hai una carta che puoi utilizzare per spendere le tue crypto in modalità debito o credito. Insomma, una sorta di neobanca, anche se non è una banca, sottolineiamolo, è un exchange, però ha funzionalità che tendenzialmente si hanno nelle banche. Ora ti vado a mostrare graficamente cosa sta succedendo. Questo qui è il grafico giornaliero. Quindi nell'ultimo giorno Bitcoin è salito di un 2,92%, quindi circa 2.000 dollari di movimento. Vediamo che c'è della lateralizzazione ed è questo che volevo mostrarti in particolare. Cioè che ci troviamo in una fase, tra virgolette, potenzialmente di accumulo ancora, per andare a spingere a livelli un po' più alti. Quindi dobbiamo capire, infatti, in questo momento se ci troviamo più in accumulo o in distribuzione, perché siamo molto, molto, molto a ridosso dei top. Mettiamo magari un grafico all per capire. Eccoci qua. Cioè ci troviamo in quest'area, in questa situazione. Questo potrebbe essere, tra virgolette, un movimento molto simile a questo qui, quello che era successo 2020. Pump, ritracciamento, pump nuovamente e poi crollo per poi ripartire. Ora qui abbiamo avuto il nostro pump, un po' di ritracciamento, un nuovo pump leggermente più alto e potenzialmente qua io mi aspetto per un ritorno magari su questi livelli per poi andare a ripartire. Ricordo l'Halving è stato ad aprile 2024, quindi aprile di quest'anno. Mi aspetto il massimo di Bitcoin a settembre, meglio ottobre, novembre del prossimo anno, quindi 2025. Quindi se il prossimo anno fosse un anno recessivo o meno, a noi cambierebbe poco perché comunque mi aspetterei un po' di ritracciamento. Cioè io da questo livello non mi aspetto che tutto il 2025 sia così. Poi se sarà così, meglio ancora. Cioè godiamo tutti i comerici perché abbiamo i nostri Bitcoin in holding e va bene così. Però tendenzialmente è molto difficile che si verifichi una cosa di questo tipo. Ciò che però mi aspetto è un ritracciamento, sì, un ritracciamento più o meno profondo, più o meno marcato a seconda del 2025 recessione, 2025 niente recessione. Magari un 2025 con recessione ci riproietta, fammi dire, a questi livelli qua, che significa intorno ai 50-60k, quello che dicevamo prima. Un 2025 recessivo ci potrebbe portare potenzialmente magari a questo livello qui, che sarebbe niente male. Cioè una bella spinta, una bella propulsione per poi ripartire alla grande e risalire no sul treno, come si dice, cioè intorno ai 40-50k. Sotto, quindi tutti quelli che stanno aspettando i 10k da 20 cicli, no, non ce li vedo attualmente. Ricordo il ciclo precedente che ha avuto un massimo a 68-70k più o meno, è un minimo a 18-15-18k, quindi 78-15. Se tanto mi da tanto, da 80 potremmo tornare magari intorno ai 20-30, quindi difficile ritrovare i 18-20. Viceversa, se dovessimo estendere fino ai 90-100k, allora il minimo nuovo potenziale del prossimo ciclo potrebbero essere i 30k. Questo se ci atteniamo ovviamente a un'analisi più ciclica di bitcoin, considerando che da ciclo in ciclo i minimi sono sempre, come puoi vedere qua, anche cresciuti. Quindi potenzialmente anche nel nuovo ciclo i minimi potrebbero essere, anzi secondo me saranno tendenzialmente più alti, quindi magari intorno ai 30-40k, 35-40k. Nice! Aggiungiamo una cosa, man mano che sale il prezzo di bitcoin, sale ovviamente la capitalizzazione di mercato. Quindi con una capitalizzazione di mercato più alta diventa sempre più difficile buttare giù bitcoin in termini di cali appunto percentuali, perché significa dampare e vendere molto di più. Quindi c'è una maturità che sta raggiungendo questo asset, una maturità che ci porta ad avere magari dei picchi meno ampi, ma anche dei drawdown, dei cali meno ampi. Attualmente siamo a una capitalizzazione di mercato di 1,6 trilioni, quindi si sta sparando belli secchi. I volumi che sono in crescita nelle ultime 24 ore di un 63%, qui c'è FOMO, c'è tanto movimento. Una dominance in calo rispetto alla scorsa settimana, da 60 a 58, e questo potrebbe iniziare, ripeto iniziare, non so dicendo che sta a parte di un alt season, ma potrebbe iniziare a portare le persone a switchare un pochino da bitcoin verso le altcoin. Cosa dobbiamo tenere d'occhio? Ovviamente oltre alla dominance, oltre alla total 3, dobbiamo tenere d'occhio anche che cosa succede sul mercato, in termini personali, cioè cosa dicono le persone, quanta FOMO c'è, quanti influencer, ma non influencer di YouTube, ma influencer nel senso attrici, attori, personaggi famosi, cantanti, si stanno infilando all'interno del mercato e iniziano a parlare di bitcoin, perché questo ci dà un po' il top signal potenziale per questo movimento, qui più che altro per quest'anno. Quindi dobbiamo vedere anche questa parte qua, perché sicuramente ci dà una visione di ciò che sta succedendo. Vediamo anche l'olta e mai attualmente siglato, è di 81.858k. Nell'ultimo mese, come siamo andati? L'ultimo mese è stato fighissimo, siamo in più 34%. Con le elezioni di Trump c'è stato il boost che ci aspettavamo sul mercato, che ha dato un po' più di gas, no, c'è anche l'azionario, è partito come se non ci fosse un domani e quindi vediamo un attimo come si chiuderà questo 2024, si chiuderà secondo me col botto. Almeno chi in queste aree è tranquillo, ha comprato a livelli magari non sui minimi, ma quasi, è assolutamente tranquillo, vediamo appunto che cosa succederà. Tra l'altro una cosa molto comoda di Nexo è che hai tutto relativamente semplice da comprendere, non c'è il grafico di trading view classico con le candele, ma qui linearmente uno capisce, diciamo che Nexo è più per chi si posiziona long term piuttosto che per chi fa trading. C'è anche la sezione ovviamente futures e da qua puoi andare a vederti le candele, puoi fare tutto quello che vuoi e puoi fare proprio trading. Per chi invece è più cassettista, quindi si posiziona long term, è comodo, ci sono anche tutte le varie notizie e questo è sicuramente molto molto interessante. Hai poi la possibilità di comprare crypto, come puoi vedere qua, buy, sell, swap, parle tra loro, ottenere interessi a seconda del tuo livello su Nexo, quindi veramente hai un sacco di cose che puoi fare e ne parleremo ancora in queste settimane perché usciranno diversi video sui prestiti, strategie, quindi tante tante cose, tanti contenuti veramente utili, quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti. Andiamo a vedere anche il lato ETF che cosa sta succedendo perché come dico sempre la parte ETF è molto importante. Ricordo, ormai lo dico da un sacco, ci sono 450 BTC prodotti al giorno. Il prezzo attuale di Bitcoin, cioè 81 mila dollari, sono 36 milioni di dollari in BTC, quindi vengono prodotti ogni giorno 36 milioni di dollari in BTC. Vediamo dal 23 ottobre ad oggi come si sta muovendo il mercato. Allora abbiamo già avuto pre-elezioni, quindi 23, 24, 25 e così via fino ai giorni delle elezioni. Vediamo che i volumi lato BlackRock sono stati molto elevati, qua parliamo di milioni, qui sono 300 milioni, 600 milioni, 872 milioni, 318 milioni, qua nulla, 38 milioni. Quindi diciamo il giorno più sfigato dove si è comprato poco lato BlackRock, eccolo qua, ci sono stati comunque 38 milioni di acquisto rispetto ai 36 milioni di dollari di prodotto di Bitcoin. Quindi comunque si è andato ad accumulare tutti i Bitcoin prodotti quel giorno. Ci sono stati quel giorno però anche tanti scarichi. Vediamo nel complesso cosa abbiamo avuto. Abbiamo avuto 192 milioni, 188, 402, 479, 870, 893. Il giorno più sfigato, il 31 ottobre, abbiamo avuto 32.3, quindi quasi siamo andati a saturare la produzione giornaliera. In realtà il 31 la produzione era intorno come valore a un 32 milioni perché il prezzo era più basso di adesso, eravamo intorno ai 70 qualcosa in meno mila. Quindi qua eravamo sui 32 circa milioni, quindi è stato anche in questo giorno praticamente acquistata l'intera produzione di Bitcoin. Poi abbiamo avuto 1 novembre scarico 54.9, 4 novembre scarico 541 milioni e il 5 un altro scarico 116 milioni. Quindi qua ci sono stati gli scarichi prevalentemente da lato di Fidelity, Bitwise, ARK e così via. Qua ci sono stati un po' di take profit. Come vediamo però lato BlackRock non c'è stato chissà quale take profit in quest'area. Ce ne sono stati un paio, il 5 e il 6, ci sono stati un po' di scarichi qua, però guardiamo il 7 cosa è successo. C'è stato un accumulo di 1119 milioni di Bitcoin, vuol dire un billion, un miliardo di dollari di valore in Bitcoin. Significa che se ne vengono prodotti 36 milioni al giorno, quindi è stato acquistato per un miliardo. Stiamo parlando oltre un per 30, quindi è folle, è veramente folle sta roba qua. E in realtà anche altri hanno acquistato, quindi siamo arrivati in totale a un miliardo e tre circa. Quindi l'afflusso lato istituzionale continua ad aumentare, così come continua a rimanere stabile ovviamente la produzione e questo ci deve far triggerare un qualcosa nella testa dicendo che c'è interesse se la produzione rimane costante ma l'interesse cresce. È molto probabile vedere questo ciclo, un Bitcoin esponenzialmente potente. Lo vedremo, non lo vedremo, lo vedremo adesso già a fine anno, lo vedremo alla fine del 2025, non si sa. Tecnicamente da ciclo sarebbe fine del 2025. Io ovviamente per non saperne leggere e scrivere come si dice ho il mio holding, ho la mia parte speculativa con cui gioco, ma ciò che mi fa, mi costruisce ricchezza nel tempo è il fatto che ho il mio holding che non tocco e che vado ad accumulare nel tempo. L'obiettivo è a 5, 10 anni, 20 anni. Ho compreso che Bitcoin è una commodities, un asset se vogliamo, come loro. Di conseguenza mi sto posizionando per accumularlo e non venderlo. Questo è quello che sto facendo personalmente io con la parte di accumulo long term. La parte short term, compro, vendo, faccio bot, faccio un sacco di cose con l'obiettivo di speculare, avere più ricchezza, avere più denaro da poter utilizzare quando ci sono i cali di mercato. Cioè è quello che interessa poi, no? Che bisogna avere come come obiettivo. Cioè lato investitore quello che voglio fare è ovviamente guadagnare e quindi devo guadagnare non solo comprando ma anche vendendo, cioè fare dei take profit. Questi take profit, lato speculativo, mi portano liquidità che poi vado a utilizzare per ricomprare. Liquidità che in parte tengo parcheggiata su piattaforme come Nexo perché mi danno interessi fino a un 14% annualizzato che quindi significa ho la liquidità ferma per tenerla ferma a svalutarsi, la tengo ferma che mi genera un interesse che posso utilizzare poi per riacquistare ancora di più gli asset che mi interessa. Fermo restando che uso solo una parte perché comunque stiamo parlando di exchange, stiamo parlando di piattaforme terze e di piattaforme che custodiscono i fondi per noi. Di conseguenza c'è il rischio di controparte, cioè se la piattaforma fallisce perdo i soldi. Poi magari me li rideranno come per il caso di FTX a babbo morto, nel senso che passeranno un po' di anni e forse si riuscirà a prendere qualcosa ma intanto tu hai perso occasioni per investire, per fare. Quindi cerchiamo di limitare al massimo i rischi, quindi siamo consapevoli che affidarci a piattaforme, ma qualsiasi piattaforma, cioè il Nexo è sul mercato dal 2018, si è dimostrata sempre una piattaforma estremamente solida e sicura, ma non vuol dire che non possa fallire. Sottolineamolo, quindi bisogna fare sempre comunque attenzione, ma che sia con Nexo, con Binance, con qualsiasi, non importa quanto sia grandi, si può sempre fallire. Quindi bisogna fare comunque estrema estrema attenzione. Nel frattempo godiamoci il viaggio, vediamo come procede Bitcoin, quale target raggiungerà, vediamo se effettivamente si manterrà all'interno di questo box degli 80-90k, o se inizierà già a scendere, o se inizierà a andare più in su. Quindi vediamo come procederà. Ti invito a entrare nel canale Telegram, ti lascio qua sotto il link, è un canale gratuito dove puoi scrivere quello che vuoi, io rispondo, anche gli altri ragazzi rispondono, è una grande famiglia dove discutiamo e condividiamo i nostri trade, piuttosto che condividiamo le informazioni che abbiamo ricevuto, che abbiamo trovato, bot, cioè veramente di tutto, tutto ciò che serve per rimanere sempre sul pezzo. Quindi entra nel canale Telegram perché lì abbiamo un canale diretto e quindi possiamo in tempo reale comunicare, puoi farmi domande, possiamo discutere qualsiasi cosa. Ti ringrazio per essere stato qui con me, qua sotto ti ricordo ti lascio il link di Nexo, iscriviti al canale per rimanere aggiornato e soprattutto per non perderti i prossimi video perché saranno estremamente dettagliati, in particolare parleremo di prestiti, di aggiorno già e di qualche strategia per incassare più Bitcoin. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.